Mary Jane ASMR Ciao Ciao ragazzi Ben trovati Ben trovati ragazzi o bentornati Grazie di cuore per aver scelto questo video Allora io questa sera sto registrando come state notando dalla postazione bg dove faccio le live Per una serie di motivi non riesco a registrare in piedi stasera dalla mia solita postazione che è qui accanto perché appunto non non mi sento tanto bene, sono stanca ma vabbè ma ciò non toglie che io voglia comunque riuscire a rilassarvi lo stesso anche da questa postazione è la prima volta che registro qui da pc e spero, 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 spero di riuscire a rilassarvi ok allora oggi vi lasso con un palito click e che e e e e e e che non costa mai che ed anche con un po di brushing camera e brushing non posso spegnere il climatizzatore questa sera per registrare perché fa troppo caldo ragazzi quindi c'è un po' di rumore di fondo ma non posso fare nulla perché va veramente troppo caldo te va dire che è comodissimo registrare anche d'acqua e d'acqua e d'acqua e d'acqua e d'acqua e d'acqua e dann faccio ho i capelli dappertutto 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 ok app 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 zicka 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 Tsk 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 t Ticco 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 po 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 ore due due ok, cutie, 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 cutie oh my god, oh my god crudu 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 cr Sì, 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 sì ooooooooooooooooooooooo no 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Una dolcissima e serena notte sonidore. Ciao.